Buonasera a tutti voi, bentrovati alla TG2000 edizione delle 20 e 30, in apertura del successo della scienza contro le leucemie, salvato dalla malattia all'ospedale bambino Gesù con una terapia genica tutta nuova, un bimbo di 4 anni sperimentata già dal 2012 negli Stati Uniti dove sta dando guarigioni definitive, adesso sbarca in Italia, i primi risultati sono incoraggianti, con Pierluigi Vito allora capiamo meglio di che cosa si tratta, poi a seguire al microfono di Alessandra Camarca parla il professor Franco Locatelli, direttore del Dipartimento di Oncoematologia Pediatrica all'ospedale Vaticano, seguiamo. Daniele, il nome è di fantasia, ha 4 anni ed è il primo paziente italiano curato attraverso cellule riprogrammate antitumorali. Le immagini che vedete risalgono a un mese fa, quando al piccolo, affetto dall'eucemia linfoblastica acuta di tipo bicellulare, il tipo più frequente di tumore dell'età pediatrica con 400 nuovi casi ogni anno in Italia, sono stati infusi i propri linfociti precedentemente estratti e modificati geneticamente, in modo da riconoscere e attaccare le cellule tumorali presenti nel sangue e nel midollo, fino ad eliminarle completamente. Una terapia rivoluzionaria, sperimentata per la prima volta nel 2012 negli Stati Uniti, ma che oggi ha visto il Dipartimento di Oncoematologia Pediatrica del bambino Gesù di Roma fare un ulteriore passo avanti. In particolare perché il processo di manipolazione genetica e la produzione del costrutto originale realizzato per l'infusione, un vero e proprio farmaco biologico, è avvenuto interamente all'interno dell'officina farmaceutica dell'ospedale. Funziona insomma la terapia, l'unica possibile visto che il corpo di Daniele rigettava tutte le altre tentate. Un successo che fa ben sperare anche per il trattamento di altre patologie genetiche, come la talassemia, l'atrofia muscolare spinale o la leucodistrofia. Il bambino è tornato a casa da qualche giorno, l'abbiamo voluto diffondere oggi come informazione perché appunto volevamo in qualche misura farsi diventare la notizia. È un bambino che non ha avuto tutti gli effetti collaterali tipici della chemioterapia, quindi non vomito, non febbre, non diarrea, non mucosite e ha delle difese immunitarie decisamente più efficienti rispetto a quelle che si hanno dopo trattamenti aggressivi come quelli che si impiegano nelle forme ricadute. Funziona insomma la terapia, l'unica possibile visto che il corpo del bimbo di quattro anni rigettava tutte le altre tentate, anche il trapianto del midollo. Questa invece si è dimostrata sin da subito efficace. Nei pazienti si è chiaramente osservato che l'efficacia la si vede già dopo pochi giorni, parlo delle leucemie ninfoblastiche acute, per i tumori solidi potrebbero essere un po' diversi, i tempi potrebbero essere più lunghi, ma la scomparsa delle cellule che esprimono questa molecola che viene aggredita dall'immunoterapia di fatto la si è osservata nel sangue periferico dopo già cinque giorni dall'infusione e nel midollo dopo due settimane. Terapia genica sperimentata per la prima volta nel 2012 negli Stati Uniti su una bambina di sette anni con la stessa leucemia linfoblastica acuta e che il Dipartimento di Oncoematologia Pediatrica del Bambin Gesù ha ripetuto con successo che fa ben sperare anche per il trattamento di altre patologie genetiche e che un giorno potrebbe essere utilizzata nella cura di tutte le forme tumorali. All'estero e in Polonia, approvata nella notte dal Senato la nuova legge sulla Shoah, il testo prevede fino a tre anni di prigione per chi, parlando delle persecuzioni naziste, osi anche solo insinuare la corresponsabilità della Polonia. Così si distorce la storia di Israele, dice Israele, sono 6.700 i polacchi distintisi come giusti delle nazioni replica invece la Polonia e aggiunge i campi di sterminio non siano definiti polacchi. Seguiamo Marco Burini. Il Senato polacco ha approvato con 57 sì e 23 no una legge che vieta di accusare la Polonia di complicità nella Shoah e di riferirsi ai campi di concentramento nazisti in Polonia come polacchi. La legge, che prevede pene fino a tre anni di carcere, era passata venerdì scorso alla Camera Bassa del Parlamento e ora dovrà essere firmata dal presidente Andrei Duda. Non dovrebbero esserci sorprese dal momento che Duda, come il Partito Diritto e Giustizia al governo, sostiene che la Polonia non può essere trattata come complice della Germania perché fu occupata dall'esercito tedesco durante la Seconda Guerra Mondiale. Questa legge prosegue la politica fortemente nazionalista del governo di Varsavia ed è stata fortemente criticata da un altro governo nazionalista e conservatore, quello israeliano. Il primo ministro Netanyahu ha detto che il suo paese non avrà nessuna tolleranza per la distorsione della verità, l'alterazione della storia o il diniego della Shoah. Si è fatta sentire anche l'Europa, con cui la Polonia ha i ferricorti dopo la recente approvazione di leggi contro la magistratura. Il vicepresidente della Commissione europea, Franz Timmermans, ha ricordato che in tutte le nazioni occupate da nazisti, insieme a molti eroici, fu chi collaborò al progetto di sterminio, anche se la responsabilità dei laghe ricade sul regime nazista e nessun altro. L'Italia al voto, mancano 30 giorni alle elezioni. Il tema delle tasse è uno degli argomenti al centro della campagna elettorale. Di oggi l'ultimo report dell'Agenzia delle Entrate lotta all'evasione con un nuovo record con oltre 20 miliardi di euro recuperati. Sfide e prospettive. Allora per il nuovo governo le vediamo nel servizio di Augusto Cantelli. Dobbiamo far pace con i cittadini che sentono il sistema fiscale oppressivo. Così il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Ruffini, nella presentazione dei risultati del 2017 che segnano un nuovo record nel contrasto all'evasione fiscale. Il recupero dell'evasione relativo al perimetro di Agenzia delle Entrate ha superato nel 2017 i 20 miliardi di euro. Il rapporto dell'Agenzia arriva nel mezzo di una campagna elettorale caratterizzata da promesse di taglio delle tasse. Nel programma del centro-destra troviamo la riforma del sistema tributario con l'introduzione della flat tax, un'unica aliquota fiscale per famiglie e imprese, prevista anche la riorganizzazione della macchina dello Stato. Il Movimento 5 Stelle risponde con un intervento sull'IRPEF e propone di rivedere la no tax area, ovvero la detassazione totale dei redditi, portandola a 10.000 euro. Nel centro-sinistra si parte invece, in linea con il lavoro del Governo, da un piano di detrazione per le famiglie numerose da 9 miliardi di euro, confermati gli 80 euro al mese, mentre per le imprese sono previste riduzioni di IRES e IRI. Liberi Uguale invece propone una più equa distribuzione del carico fiscale con sgravi concentrati soprattutto su redditi bassi e medi e poi imposte sulle transazioni finanziarie e taglio delle tasse universitarie. In tutti i programmi dunque si fanno proposte di riduzione del carico fiscale, ma non sempre vengono evidenziate le coperture necessarie per mantenere poi i conti pubblici in ordine. Parliamo adesso della battaglia sul grano. In arrivo fra 15 giorni l'attesa novità dell'etichetta d'origine che cambia le regole su pasta e riso, la norma per ora nazionale, ma qui guarda con attenzione tutta l'Europa. Introduce l'obbligo di chiarire l'origine del grano perché un pacco di pasta su tre arriva da grano straniero. La denuncia di Coldiretti, tutto nel servizio di Caterina Dall'Olio. In Italia un pacco di pasta su tre è fatto con grano straniero senza alcuna indicazione per i consumatori. Per il riso invece la media è di una confezione su quattro. Pasta e riso che nel contenuto e nell'aspetto del pacco sembrano 100% made in Italy ma che in realtà nascondono percentuali di prodotto straniero non irrilevanti. Per far fronte a questa situazione dal 16 febbraio sugli scaffali di supermercati e per mercati si troveranno pacchi di pasta e riso con l'etichetta di origine dove verranno indicate le esatte percentuali di prodotto italiano e di prodotto estero. Una conquista per i consumatori ma anche per i produttori. Si tratta di una tutela per i consumatori ed è il risultato di una lunga battaglia di col diretti per tutolare le produzioni italiane. Anche perché per esempio sul riso a causa delle forti importazioni che arrivano dall'estero abbiamo avuto un crollo del 58% dei prezzi, un crollo che però non si ripercuote poi nel prezzo al dettaglio per i consumatori. Brutta notizia invece sul fronte delle imitazioni delle doppe e delle IGP italiane, in particolare di formaggi e salumi. Tutti prodotti che l'accordo di libero scambio in corso tra Unione Europea e alcuni paesi stranieri a partire dall'America Latina potrebbe autorizzare in via ufficiale un libero scambio che potrebbe diventare un inganno per migliaia di consumatori. A Torino la chiamano l'angelo dei poveri. Vi raccontiamo ora la storia di un ottantenne speciale che nella periferia piemontese sfama chi non ha nulla da mettere sotto ai denti. Terziaria francescana tutti i giorni fa il giro dei supermercati per raccogliere gli avanzi. Gian Mario Ricciardi l'ha incontrata e a lui ha detto lasciatemi anonima, però dite che ho bisogno di altri volontari. Vediamo. Accogliere, dare e condividere tra i palazzi della periferia di Torino hanno le sue mani. Ottant'anni a luglio, una vita di lavoro sposata, da sola raccoglie il cibo per dodici famiglie, 20 persone, ma non vuole parlare per la dignità di chi aiuta. Perché? Ce l'ho nella DNA come una terziaria francescana. Cerca chi l'aiuti ma non vuol far sentire la sua voce, ne farà riprendere il suo volto. Ripete, la destra non sappia che cosa fa la sinistra, ma lo fa tutti i giorni, con una bici che di battaglie ne ha viste tante. Qui, dove la città ha messo radici, vicino al santuario di Santa Rita, quando la Fiat volava da sola. Passa da tre supermercati, guarda nei cassonetti, prende tutto ciò che viene buttato. E tre volte la settimana mette tutto sull'auto, va nel Monferrato e nel Chivassese. Che storia la sua? No, non cerca nulla per sé, ma per gli impoveriti. Immagine disarmante e discreta della bontà che viene dal cuore. Adesso all'ultima trovata di Amazon, il colosso del commercio su internet brevettato. Il braccialetto elettronico per i dipendenti trasmette gli ordini al polso del lavoratore, lo guida tra gli scaffali alla ricerca dei prodotti. Cresce l'efficienza dunque, ma anche il pericolo di un controllo eccessivo. Silvio Vitelli. Per le multinazionali del web, si sa, la velocità è di importanza assolutamente primaria. Ecco perché, secondo il sito americano GeekWire, Amazon avrebbe appena brevettato uno speciale braccialetto con segnali radio o impulsi a ultrasuoni in grado di verificare la posizione dei dipendenti rispetto all'inventario. Non solo, si attiverebbe una vibrazione nel momento in cui il lavoratore andasse nella direzione sbagliata. La notizia ha suscitato enorme clamore. I documenti di Amazon puntano l'accento soprattutto sul risparmio di lavoro più che sulla sorveglianza. Il pericolo però sta proprio qui. Quasi tutte le aziende sono già in grado da molti anni di controllare la produttività dei singoli dipendenti, così come rilevare l'orario di ingresso e di uscita per quelle categorie di lavoratori per i quali è previsto. Ma un conto è conoscere la produttività totale a fine giornata, settimana o mese e un altro è monitorarla istante per istante. Ecco perché non è possibile installare telecamere a questo scopo. In questo contesto, il braccialetto di Amazon, se non verranno posti dei limiti precisi, potrebbe svolgere in qualche modo anche la funzione della telecamera. Puff senza riportare le immagini, si potrebbero comunque ottenere gli spostamenti di ogni dipendente, momento per momento. La segretaria della CGL, Susanna Camusso, ha chiesto sarcasticamente questo braccialetto, oltre al wireless, avrebbe anche le catene e le palle di piombo? La messa del mattino a Santa Marta. Pensare alla morte, ha spiegato Francesco nell'Omelia, salva dall'illusione di sentirsi padroni del tempo. Con Paolo Fucili ripercorriamo le sue parole. Avere il senso del tempo è una grazia da chiedere a Dio con la preghiera per non illuderci di essere noi padroni del tempo, perché la morte è un fatto, arriva per tutti e ci fa bene pensarci, predica oggi Francesco da Casa Santa Marta. Ma c'è la tentazione del momento che si impadronisce della vita e ti porta ad andare girando nel momento, in questo labirinto egoistico del momento, senza futuro. Avevo quattro anni, racconta poi, quando mia nonna mi insegnò a leggere un cartello sul suo comodino che ancora ricordo. Pensa che ti guarda Dio, pensa che ti sta guardando, pensa che morirai e tu non sai quando. Così la vita, commenta ora l'anziano Bergoglio, non è più una catena di anelli senza senso. E domandarci se Dio oggi mi chiamasse, quale eredità io lascerò come testimonianza di vita? Una bella domanda per farci. Questa infatti è l'eredità vera alla testimonianza di come sono vissuto, non i soldi di cui vengono subito in cerca ai nipoti o quel che si dice alle veglie funebri, dove tutti i morti sono consanti. Insomma, magari un po' spaventa, però fa bene pensarci. Io morirò e quando avverrà, si domanda il Papa. Cosa mi avrebbe piaciuto fare oggi, in questa decisione che io devo prendere oggi, nel modo di vivere di oggi? È una memoria anticipata che illumina il momento di oggi. Ed è tutto, è il momento di TGTG con Donatello Vaccarelli già pronto dall'altra parte dello studio. Grazie per averci seguiti e buon proseguimento di serata.